buongiorno a tutti oggi prepariamo la grigia allora che cosa ci serve 250 grammi di guanciale di petali di guanciale di guanciale tagliato fine di un centimetro io ho messo per tre persone 250 grammi di pasta del pecorino romano allora abbiamo già acceso la pentola dell'acqua perché aspettiamo solo il dolore per buttare la nostra pasta abbiamo acceso qui il nostro fornello per scaldare la pentola perché praticamente nella prima fase dobbiamo mettere a scaldare in questa pentola il nostro guanciale senza quando la pentola sarà calda senza l'aggiunta di olio quindi lo facciamo diventare bello scricchioloso e poi ci aggiungiamo un mestolo di acqua per rallentare quindi la cottura nel frattempo che si cuoce la pasta ok ma dopo vi faccio vedere tutte le fasi piano 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 eccoci qui il nostro guanciale guardate come la solo caccia il grasso necessario a condire la nostra pasta ok adesso deve cuocere una decina di minuti nel frattempo che l'acqua non è bollore che possiamo buttare i nostri rigatoni ok lo lasciamo andare a dopo ci qui la nostra acqua sta bollendo i nostri rigatoni della rummo sono pronti inseriamo dentro una piccola girata nel frattempo il nostro guanciale sta andando piano piano lo facciamo fare bello arrostito è bello squicchioroso mi raccomando e facciamo sciogliere tutto il grasso che ci servirà quindi per condire la nostra pasta la nostra grigia ok a dopo e qui di nuovo abbiamo aggiunto un mestolo di acqua di cottura della nostra pasta mentre i nostri rigatoni continuano a cuocersi così rallentiamo facciamo andare piano piano il nostro guanciale nel frattempo si si prepara la nostra pasta ok che dopo andremo lasceremo l'acqua andremo a scolarla e metterla direttamente nel nostro nella nostra teglia ok ma dopo vi faccio vedere passo per passo ci qui i nostri rigatoni sono pronti gli scoliamo direttamente nel nostro nella nostra pentola la nostra padella con il guanciale una volta che abbiamo scolato tutti tutti i nostri e i nostri rigatoni ok 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 sole ci mettiamo una bella spolverata pecorino romano e giriamo la nostra pasta in tale che si crei una certa cremina a dopo a dopo a dopo a dopo Grazie a tutti.